Luis Sepulveda. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Parte seconda, capitoli, settimo e ottavo. Capitolo settimo. Imparando a volare. Prima di iniziare, rivediamo per l'ultima volta gli aspetti tecnici. Mi agolò Diderò. Dalla cima di una libreria, colonnello, segretario, zorba e sopravento osservavano attentamente quello che accadeva in basso. Giù c'erano Fortunata, in piedi, in fondo a un corridoio, che avevano denominato Pissa di Decollo, e Diderò, chino dall'altro capo del corridoio, sul dodicesimo volume, corrispondente alla lettera L dell'enciclopedia. Il libro era aperto su una delle pagine dedicate a Leonardo da Vinci, dove si vedeva un curioso aggeggio, battezzato Macchina per volare, del grande maestro italiano. Per favore, prima di tutto controlliamo la stabilità dei punti d'appoggio, A e B, ordinò Diderò. Prova punti d'appoggio, A e B, ripete Fortunata, saltando prima sulla zampa sinistra e poi sulla destra. Perfetto, ora controlleremo l'estensione dei punti C e D, mi aggolò Diderò, che si sentiva importante, come un ingegnere della NASA. Prova estensione punti C e D, obbedì Fortunata, spiegando entrambe le ali. Perfetto, ripetiamo tutto da capo, ordinò Diderò. Per i baffi del rombo, falla volare una buona volta, esclamò a sopravento. Le ricordo che sono il responsabile tecnico di volo, ribatté Diderò. Tutto deve essere adeguatamente controllato, altrimenti le conseguenze potrebbero essere terribili per Fortunata, terribili. Ha ragione, lui sa quello che fa, commentò il segretario. Esattamente ciò che stavo per miagolare, brontolò Colonnello. La finirà mai di togliermi i miei goliti bocca? Fortunata era lì, in procinto di tentare il suo primo volo, perché durante l'ultima settimana si erano verificati due episodi, grazie ai quali i gatti avevano capito che la gabbiana voleva volare, anche se nascondeva molto bene il suo desiderio. Il primo fatto era avvenuto un pomeriggio, in cui Fortunata aveva accompagnato i gatti a prendere il sole sul tetto del bazar di Harry. Dopo un'ora che erano lì, a crogiolarsi ai raggi del sole, avevano visto volare in alto, molto in alto, sopra di loro tre gabbiani. Spiccavano belli e maestosi nel cielo blu. A tratti sembravano paralizzarsi, limitandosi a fluttuare nell'aria con le ali tese, ma bastava un lieve movimento perché si spostassero con una grazia e un'eleganza che facevano invidia e anche voglia di starsene lassù con loro. All'improvviso i gatti smisero di fissare il cielo e si voltarono a guardare Fortunata. La gabbianella osservava il volo dei suoi simili e senza rendersene conto spiegava le ali. «Guardate, vuol volare!» commentò Colonnello. «Sì, è ora che voli!» riconobbe Zorba. «Ormai è una gabbiana grande e forte!» «Fortunata, vola! Prova!» suggerì il segretario. Quando sentì Mia Golida e i suoi amici, Fortunata ripiegò le ali e si avvicinò a loro. Si sdraiò accanto a Zorba e iniziò a far risuonare il becco imitando le fusa. Il secondo episodio era accaduto il giorno successivo, mentre i gatti ascoltavano una storia di sopravvento. E come vi mi agolavo, le onde erano così alte che non potevano vedere la costa. E per il grasso del Capidoglio, colmo delle disgrazie, la nostra bussola era impazzita. Cinque giorni e cinque notti passammo in mezzo alla burrasca e non sapevamo se stavamo navigando verso la costa o se ci allontanavamo in mare aperto. Ma proprio allora, quando ci sentivamo ormai perduti, il timoniere avvissò uno sormo di gabbiani. Che gioia, compagni! Puntammo alla prua nella stessa direzione in cui volavano e riuscimmo a raggiungere la terra ferma. Per i denti del Barracuda! Quei gabbiani ci salvarono la vita! Se non li avessimo visti, ora non sarei qui a miagolarvi la storia. Fortunata, che seguiva sempre con molta attenzione i racconti del gatto di mare, lo ascoltava con gli occhi spalancati. «I gabbiani volano anche nei giorni di burrasca?» chiese. «Per le scariche della torpedine! I gabbiani sono i volatoli più robusti dell'universo!» assicurò sopravento. «Non c'è uccello che sappia volare meglio di un gabbiano!» I miei gori del gatto scendevano nel profondo del cuore, affortunata. Batteva le zampe per terra e muoveva nervosamente il becco. «Vuoi volare, signorina?» indagò Zorba. Fortunata li guardò a uno a uno prima di rispondere. «Sì, per favore, insegnatemi a volare!» I gatti miagolarono la loro gioia e subito misero zampa al lavoro. Attendevano quel momento da molto tempo. Con tutta la pazienza che contraddistingue i gatti, avevano aspettato che la gabbianella comunicasse loro il suo desiderio di volare, perché grazie a un'ancestrale saggezza capivano che volare è una decisione molto personale. E il più felice di tutti era Diderot, che ormai aveva trovato i fondamenti del volo nel dodicesimo volume, lettera L, dell'enciclopedia, e che perciò si era assunto l'incarico di dirigere le operazioni. «Pronta al decollo?» mi aggolò Diderot. «Pronta al decollo!» annuncia fortunata. «Inizia a rollare sulla pista, spingendo indietro il suolo con i punti di appoggio A e B», ordinò Diderot. Fortunata venne avanti, ma lentamente, come se avanzasse su pattini maleogliati. «Maggiore velocità!» reclamò Diderot. La giovane gabbiana accelera un po'. «Ora allunghi i punti C e D!» istruì Diderot. Fortunata piegò le ali mentre avanzava. «Ora sollevi il punto E!» comandò Diderot. Fortunata alzò le piume della coda. «E ora muova dall'alto in basso i punti C e D, spingendo l'aria verso terra, e contemporaneamente ritiri i punti A e B!» spiegò Diderot. Fortunata batte le ali, ritrasse le zampe, si innalzò di un paio di centimetri, e subito ricadde come un sacco di patate. Con un balzo i gatti scesero dalla libreria e corsero da lei. La trovarono con gli occhi pieni di lacrime. «Sono una buona nulla! Sono una buona nulla!» ripeteva sconsolata. «Non si mola mai al primo tentativo, ma ci riuscirai! Te lo prometto!» mi agolò Zorba, leccandole la testa. Capitolo ottavo I gatti decidono di rompere un tabù. Fortunata tentò di spiccare il volo 17 volte, e per 17 volte finì a terra dopo essere riuscita a innalzarsi solo di pochi centimetri. Diderot, più magro del solito, si era strappato i baffi a uno a uno dopo i primi 12 fallimenti, e con tremanti miagolii cercava di scusarsi. «Non capisco. Ho esaminato la teoria del volo con grande cura. Ho messo a confronto l'istruzione di Leonardo con tutto quello che è riportato nella parte dedicata all'aerodinamica, volume primo, lettera A dell'enciclopedia. Eppure non ci siamo riusciti. È terribile, terribile!» I gatti accettavano le sue spiegazioni, e tutta la loro attenzione si concentrava su Fortunata, che a ogni tentativo fallito diventava sempre più triste e malinconica. Dopo l'ultimo insuccesso, Colonnello decise di sospendere gli esperimenti, perché la sua esperienza diceva che la gabbianella iniziava a perdere fiducia in se stessa, e questo era molto pericoloso se davvero voleva volare. «Forse non può farcela!» dichiarò il segretario. «Forse ha vissuto troppo tempo con noi, ha perso la capacità di volare!» «Se si seguono le istruzioni tecniche e si rispettano le leggi dell'aerodinamica, volare è possibile! Non dimenticate che è tutto scritto nell'enciclopedia!» Ribatte, diterò. «Per la coda della razza!» esclamò a sopravento. «È una gabbiana! E i gabbiani volano!» «Deve volare!» l'ho promesso a sua madre e a lei. «Deve volare!» ripetè Zorba. «E la tua promessa impegna anche tutti noi!» ricordò Colonnello. «Riconosciamo che non siamo capaci di insegnarle a volare e che dobbiamo chiedere aiuto fuori dal mondo dei gatti!» suggerì Zorba. «Mi augura chiaro, caro guaglione! Dove vuoi arrivare?» domandò serio Colonnello. «Chiedo di essere autorizzato a infrangere il tabù per la prima e ultima volta in vita mia!» dichiarò Zorba, guardando negli occhi i suoi compagni. «Infrangere il tabù!» miagolarono i gatti, tirando fuori gli artigli e rizzando i peli sul dorso. «Miagolare l'idioma degli umani è tabù!» Così recitava la legge dei gatti, e non perché loro non avessero interesse a comunicare. Il grosso rischio era nella risposta che avrebbero dato gli umani. Cosa avrebbero fatto con un gatto parlante? Sicuramente lo avrebbero rinchiuso in una gabbia per sottoporlo a ogni genere di stupidi esami, perché in genere gli umani sono incapaci di accettare che un essere diverso da loro li capisca e cerchi di farsi capire. I gatti sapevano, per esempio, della triste sorte dei delfini, che si erano comportati in modo intelligente con gli umani, e così erano stati condannati a fare i pagliacci negli spettacoli acquatici. E sapevano anche delle umiliazioni a cui gli umani sottopongono qualsiasi animale che si mostri intelligente e ricettivo con loro. Per esempio i leoni, i grandi felini, obbligati a vivere dietro le sbarre e a vedersi infilare fra le fauci la testa di un cretino. O i pappagalli chiusi in gabbia a ripetere sciocchezze, perciò miagolare nel linguaggio degli umani era un grandissimo rischio per i gatti. Tu rimani confortunata, noi ci ritiriamo a discutere la tua richiesta, ordinò colonnello. Durò ore e ore la riunione dei gatti, ore e ore durante le quali Zorba rimase sdraiato accanto alla gabbianella, che non nascondeva la sua tristezza per non saper volare. Era ormai notte quando terminarono. Zorba si avvicinò per conoscere la decisione. Noi gatti del porto ti autorizziamo a infrangere il tabù un'unica volta. Mi aggolerai con un solo umano, ma prima decideremo tutti insieme con quale, dichiarò solennemente colonnello.